Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po' matto. A me piace fare il macello. La scuola è un momento per divertirsi, per me. Ho preso 56 notti di classe. Per il casino. E ci lancio le sedie. Faccio dei versi animaleschi. Così, gli schizzi. Mi arrampico agli alberi. Infatti ho preso appunto una nota per questo fatto. Perché il professore stava spiegando agli altri cosa fare con le piante. Io e un amico mio ci arrampichiamo agli alberi per prendere i fichi che stavano sopra e sopra. E ho avuto la nota. Samuel è come l'acqua del mare. È sempre in movimento. Ci ha da impazzire. Fa girare la testa. Fa il contrario di quello che dici. Tu dici che andiamo a sinistra, lui va a destra. È una rovina più che altro. Quindi, la ossia. Il vostro ruore. La ossia è un libro. Qu'è la notκα? La ossia è un libro.